Luigi Michele aveva due gatti ciechi che si sbattevano l'uno con l'altro Roger ha chiuso la sua affinità Luca voleva che te gli accaspetto aveva dei ricci e quindi non può Roger ha perduto la sua affinità Jenny non vuole andare da Jimmy perché Johnny è andato da Gianna qualcuno è già morto, qualcuno vivrà Anna Lisa è la donna perfetta ogni cosa che tocca diventa una tocca Anna Lisa è la donna perfetta ogni cosa che tocca diventa una tocca Anna Lisa è la donna perfetta da Gianna Anna Lisa è la donna perfetta da Gianna Anna Lisa è la donna perfetta da Gianna 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 e adesso insieme a me mi scalda il cuore e l'anima di un poco tanto che mi chiedo applauso di qualcosa ci strano in lei quel modo di guardare tutti i letti fra nemmeno grazie 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 ciao 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 ciao